Al 143 giro, su un totale di 154 giri, la Honda Reinhardt-Zanardi. Qui siamo anche su, tracciati da 400 km orari, per esempio un po'. All'uscita del box è stata violentamente investita da Alex Tagliani, che è un, ecco vedete, tra poco arriva, questo è Tagliani che becca in pieno a metà. Rivediamo un attimo se la regista, ecco, se andiamo con rallenti, vedi qui c'è Zanardi che esce, no? Sta uscendo dai box, tenete conto che lui è stato richiamato ai box per una sosta dovuta a un rifornimento errato, perché mancavano pochissimi giri alla fine, lui non doveva fermarsi, quindi probabilmente è molto nervoso, quindi in uscita dai box probabilmente ha aperto l'acceleratore con molta violenza. Tiriamo conto che questi sono motori... Vedete, tra poco è molto importante vedere nella parte più debole, direi, della macchina. Senz'altro nella parte più debole, d'altra parte, Tagliani se l'è trovato davanti, ma, ecco, vedi, sì, sì, è incredibile. E lì vedete, la cosa che fa impressione, se avete notato, è proprio all'altezza delle gambe. È all'altezza delle gambe e quindi voi capite cosa vuol dire per un pilota.